Tanti punti interrogativi, il Presidente della FIP Calabria Labbozzetta è stato abbastanza nudo e crudo, ha detto la problematica di impianti è troppo grave, stanno impedendo a tantissime squadre di svolgere per la canestro, una su tutte, la viola. I punti interrogativi però qui ancora sono troppo troppo fermi Presidente. Sì, sono troppi e in verità ad oggi è difficile soluzione, io mi rendo conto che il Presidente giustamente interpreta non solo le esigenze della viola, che comunque sono delle esigenze, ma sul territorio, sul reggio e provincia chiaramente la situazione è davvero terribile, con campi che un tempo erano fruibili da diverse società, oggi diventa tutto un punto interrogativo. Io vi ho giocato a Auro di fatto oggi, tanto per raccontarne un'altra, noi abbiamo il vecchio palazzetto, il vecchio pallone che ha appena iniziato i lavori di ristrutturazione, c'è un nuovo impianto che però in corso d'opera, ma servirà almeno un anno, molto bello, da mille posti, però siamo ancora agli inizi di quei lavori. Ma tornando a bomba sulla viola, per la viola è indispensabile avere la disponibilità del Pentimele, non possiamo prescindere da questo. Come dicevo, il Botteghele non riesco più neanche a dire o a pensare cosa si può fare lì, perché credo che sia impraticabile la strada del Botteghele, ma dobbiamo immaginare che almeno un minimo di certezza sui tempi del Pentimele occorre che qualcuno che ha la responsabilità di doverci dare delle certezze, insomma, deve assumersene queste responsabilità, no? Il silenzio dei commissari è sicuramente assordante come ha ripetuto il Presidente della FIP, la bozzetta, e poi c'è il centro viola, anche qui si arriva sempre a un passo, il gol è pronto davanti alla porta e poi qualcuno non calcia, che succede? Devo confessare che il mio più grande desiderio stasera era di quello di venire qui, stante che c'era un consiglio provinciale nei giorni scorsi, pochi giorni fa appunto, e di poter comunicare a tutti che insomma si era risolta questa vicenda lunghissima ormai. Purtroppo altri impedimenti hanno impedito che si concretizzasse questa cosa, io sto apprezzando moltissimo l'interessamento della tutta la giunta provinciale, il Presidente, insomma, sta cercando di portare a termine questa benedetta concessione, però di fatto ad oggi devo dire, insomma, siamo fermi. Io credo che questa cosa qui debba inevitabilmente venire alla luce, dobbiamo arrivare alla fine di questo percorso perché questo sì è davvero poi propedeutico per tutta l'attività della società. Mentre lì stiamo parlando della prima squadra, del Pentimele, questo è indispensabile per tutta l'attività, non quindi prima squadra, ma tutto quello che ne consegue, tutte le attività giovanili, insomma, la programmazione degli under, è davvero indispensabile. Quindi abbiamo punti interrogativi più o meno dappertutto, purtroppo, in questo momento. Chiaramente le istituzioni devono comprendere che in caso di mancata apertura e agibilità del Pentimele, lo spettro della Lega 3, della DNB e di giocare al centroviola con una squadra di giovani è reale. Assolutamente sì, io credo che poi quella diventa una scelta obbligata, a malincuore, dolorosissima, voglio dire, perché insomma ci abbiamo messo, l'abbiamo conquistata e so io che fatica abbiamo fatto per mantenerla quest'anno, insomma, però credo che diventa improponibile un altro anno di due silver nelle condizioni dello scorso anno, diventa proprio ingestibile. Mi ricollego al premio under e poi a una piccola nota, c'è chi diceva, tanti addetti ai lavori dicevano, è impossibile che un giocatore che giochi in una squadra di Reggio Calabria riesca a vincere qualcosa a livello mondiale o europeo. Così non è stato, complimenti a Ion Lupusor, vostro prospetto, adesso bisogna farli giocare questi ragazzi. Questo è importantissimo, il passo successivo è che i nostri ragazzi devono giocare assolutamente. Per questo io dico, la Viola deve continuare il suo progetto, la Viola, intesa come società, deve seguire quello che è l'indirizzo di base, di programmazione della società. I nostri ragazzi devono giocare e forse alla fine tutto sommato il fatto di giocare in Serie B, attenzione non sto dicendo che noi giocheremo in Serie B, dico solo che dobbiamo cogliere le opportunità e seguire un filo logico rispetto a quello che abbiamo pensato di fare. Non riusciamo a giocare al pentimene, non è possibile giocare benissimo, allora vuol dire che investiremo ancora più risorse sui giovani, rifacciamo un bel campionato di Serie B che comunque è altrettanto bello, non è uno diminuzio, è uno diminuzio solo perché magari non abbiamo i due americani probabilmente. Ma comunque insomma io dico, noi dobbiamo essere propositivi, vada a sé che noi ci batteremo estremamente affinché questo palazzetto venga dato, venga consegnato e che ci consentano di fare un nuovo anno in Lega a Due Silvere, insomma questo è il nostro obiettivo, assolutamente.